SIGLA Vediamo cosa c'è di bello oggi da guardare Dammi E' quello? Mr. Incredible, Mr. Meltayu! Che c'è? Un meteoriti si sta schiantando sulla terra! Fai qualcosa! Vado subito! SIGLA Grazie Mr. Incredible! Dammi Dammi Uhhh Uhhh Cosa? Heheheh Uhhh Uhhh No, Dammi E' un apparecchio di idee Ok, Fai 36 Dami Dami Vabbè!